Buon pomeriggio, torniamo anche questa settimana con Spazio Salute. Il nostro corpo è una macchina perfetta, ogni organismo ha una funzione precisa, una funzione specifica. Oggi vi parliamo di un organo molto piccolo, misura circa 8-10 cm, che è un organo fondamentale per tenere pulito il nostro organismo. Sto parlando dei reni, capiremo quanto è importante la funzione del rene e soprattutto capiremo cosa succede quando il rene non funziona più come dovrebbe, cosa succede al nostro organismo. Lo facciamo in compagnia del primario di nefrologia e dialisi di Casa Sollievo della Sofferenza, dottor Filippo Aucella. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ho fatto una piccola premessa proprio per far capire l'importanza dell'argomento della puntata. Ecco, il rene, a cosa serve e quanto è importante nel nostro organismo? Il rene è un organo fondamentale perché è quello che mantiene la cosiddetta omeostasi interna. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi quotidianamente assumiamo dei liquidi, assumiamo del cibo e tutte le scorie dei liquidi e del cibo poi devono essere eliminate dall'organismo. Bene, il rene si occupa di mantenere costantemente pulito tutti i nostri organi interni e il sangue, facendo che cosa? Filtrando in continuazione 24 ore su 24 il sangue, rilasciando tutte le sostanze utili e invece eliminando tramite le urine le sostanze tossiche che devono essere eliminate. Non solo lo fa questo lavoro 24 ore al giorno, quando dormiamo, quando siamo svegli, qualunque cosa facciamo, ma fa anche tante altre cose. Produce per esempio degli ormoni. Quindi se noi abbiamo un certo numero di globuli rossi è perché il rene produce l'eritropoietina, l'ormone che stimola la produzione dei globuli rossi. Se le nostre ossa si mantengono sane è perché il rene produce la vitamina D, specialmente quando non l'assumiamo dall'esterno ancora. Se manteniamo in maniera corretta la nostra pressione arteriosa è perché il rene produce ancora un altro ormone che è la renina, che consente all'organo interno di tenere in maniera corretta i valori della pressione arteriosa. Quindi come si vede ha una funzione, come diciamo noi, pleiotropica, cioè tante funzioni che servono per avere una vita sana e tranquilla. Ecco, quindi a maggior ragione, dopo tutto questo elenco di funzioni fondamentali per il nostro organismo, se il rene smette di funzionare correttamente ci sono delle conseguenze gravi per il nostro corpo? Sicuramente ci sono delle conseguenze grave, noi però abbiamo un problema con i reni. I reni stanno molto zitti purtroppo, quindi anche quando si ammalano lo fanno in maniera silenziosa e danno pochi sintomi all'esterno. Per cui se i soggetti che sono più a rischio non fanno dei controlli periodici possono poi scoprire all'improvviso di avere una grave mancanza della funzione renale quando il danno è stato già fatto e quindi poi dobbiamo ricorrere a cure sostitutive. Invece, a differenza di altri organi come il cuore, per esempio, che può dare dei segni specifici di allarme quando ha un problema, il rene molto spesso è silente e questo crea un po' di problema, soprattutto per la diagnosi precoce. Poi capiremo quanto è importante, anche in questo caso, noi stressiamo sempre tantissimo questo concetto della prevenzione perché davvero abbiamo capito dall'inizio di questa stagione di spazio salute che davvero la prevenzione fa la differenza, può salvare la vita. Nello specifico oggi approfondiamo un aspetto, ovvero la malattia renale cronica. Che cos'è e che cosa succede poi al nostro corpo? Allora, noi definiamo malattia necronica ogni condizione che ha causato una diminuzione della funzione normale del rene. Esiste una semplice classificazione che in base a un parametro che noi utilizziamo per valutare la funzione, valuta questa insufficienza renale in cinque stadi. Più avanti è lo stadio, minore sarà la funzione renale. Ora, cosa succede? Noi possiamo perdere anche il 50% della nostra funzione renale, è stata ancora benissimo perché col 50% l'organismo continua a funzionare efficacemente. La parte rimanente di rene sano si accolla il lavoro anche di quel rene malato che non funziona più. Però quando noi non mettiamo in atto a questo punto delle misure, delle accortezze che servono per alleviare il lavoro del rene, anche quel 50% va in ulteriore sofferenza e quindi la malattia necronica progredisce man mano, perdendo sempre più funzione. Il nostro compito è una volta individuata una carenza di funzione, cioè dei reni che funzionano di meno del normale, mettere in atto tutte quelle strategie che rallentano o dire anche bloccano il peggioramento progressivo della funzione renale. Perché è un punto di non ritorno, non si cura, però presa in tempo ci permette comunque una convivenza piuttosto pacifica, no? Sì, una volta che abbiamo eliminato tutti i fattori che possono causare una progressione rapida della malattia, abbiamo solo una condizione di stabilità anche se di insufficienza renale, molto spesso noi con le strategie alimentari e farmacologiche riusciamo a controllare abbastanza bene la malattia, anche con un importante ruolo del paziente che con un adeguato stile di vita riesce a mantenere sano il rene funzionante. Per cui è importante soprattutto scoprirlo in tempo e mettere in atto tutte queste pratiche. Lei ha detto che è una malattia silente, il rene è un organo che quando inizia ad avere problemi, insomma difficilmente le manifestazioni sono così diciamo riconoscibili, però ci sono comunque dei campanelli d'allarme, dei segnali che possono aiutarci a capire che qualcosa non sta funzionando? Sicuramente uno stato di debilitazione, di astenia o di stanchezza progressiva può essere il primo indicatore a fare degli semplici esami del sangue o delle urine per vedere se la funzione renale è normale, l'inappetenza ad esempio o un lalito cattivo senza altri tipi di problematiche possono essere alcune piccole spie, però la cosa più importante nei soggetti che hanno o familiarità o hanno delle condizioni patologiche tali che li portano ad essere a rischio, fare delle indagini che consentono di verificare il funzionamento dei reni. Indagini che sono semplicissime. Poi capiremo anche quali sono i soggetti a rischio, capiremo anche come fare prevenzione, ci sono sicuramente degli stili di vita corretti, delle buone pratiche che possiamo mettere in pratica. Lo stadio ultimo per questo tipo di malattia è la dialisi come cura o il trapianto. Allora vogliamo ascoltare da parte del dottor Gaetano Ferrara, nefrologo di Casa Sollievo della Sofferenza, che cos'è la dialisi e poi torniamo ancora qui. La metodica dialitica è una cura che sostituisce la funzione dei reni giornalmente, periodicamente, rispetto ai pazienti che sono affetti da malattia renale cronica, nello stadio più avanzato della stessa, quella che è chiamata uremia terminale. Questo tipo di patologia è caratterizzata da una serie di problematiche che hanno in primis l'accumulo di acqua periodica che deriva dall'alimentazione quotidiana, in particolare, ma in generale anche una serie di tossine che vanno ad accumularsi nell'organismo e che normalmente sono rimosse dal rene, che è definito come emontore, cioè un organo capace di rimuovere le scorie e soprattutto capace di mantenere l'equilibrio dell'organismo, l'omeostasi per ciò che riguarda il bilancio degli acidi e delle basi. Il ruolo fondamentale di un piccolo organo di circa 8 cm che si trova all'altezza della schiena e che periodicamente, continuamente, si occupa di depurare e pulire il sangue viene svolto da quella che è una macchina chiamata rene artificiale che ha la capacità di poter prelevare il sangue, lavarlo un certo numero di volte, depurarlo delle tossine che poi risultano tossiche e ridarlo integro al paziente che quindi potrà svolgere la sua vita quotidiana. Immaginate che ogni sessione dialitica della durata di 3 o 4 ore ha, tra i suoi parametri, il numero di volte che il sangue viene lavato, purificato e reimmesso come pulito all'interno dell'organismo e una buona dialisi potrebbe garantire questo lavaggio di circa 50-60 litri di sangue nell'arco della sessione. Se voi immaginate che un soggetto caucasico di 70 kg, alto 1,75 m, ha una massa sangue che oscilla sul 12% del peso corporeo, quei 6-8 litri di sangue vengono ripuliti per 8-9-10 volte fino a poter ripassare all'interno della macchina una serie di volte necessarie a poter rilasciare le tossine e a ridare il sangue pulito. Questa dialisi, la cosiddetta dialisi del sangue, chiamata dialisi extracorporea e viene somministrata periodicamente nell'arco di 3 o 4 volte a settimana e può accarezzare l'intero periodo di vita del paziente cronico o coprire le necessità del paziente cronico quando poi viene candidato ad un trapianto di rene. Ringraziamo il dottor Ferrara per questa spiegazione. La dialisi, appunto, dicevamo, è il punto d'arrivo più temibile. Sì, perché quando i reni funzionano così poco da non poter sopravvivere, garantire la sopravvivenza del paziente senza un sostegno esterno, noi dobbiamo ricorrere alle terapie dialitiche. Abbiamo visto in servizio quella che è la cosiddetta dialisi extracorporea o emodialisi. Esiste poi un altro tipo di dialisi, che noi chiamiamo dialisi peritoneale, che è anche molto valida e soprattutto consente al paziente di farla a domicilio e per proprio conto dopo un minimo periodo di addestramento. Qual è la differenza? La differenza sostanziale è che la dialisi peritoneale può essere fatta da un paziente che sia autonomo per proprio conto a domicilio. Il paziente quindi non viene in ospedale se non per un controllo mensile e è meno traumatica rispetto alla emodialisi extracorporea. L'emodialisi extracorporea può essere fatta anche a domicilio in alcuni casi, ma lì c'è bisogno poi di un partner, di un caregiver che si fa carico di fare le procedure. Altrimenti nel 90% dei casi viene fatta in ospedale e purtroppo in ospedale bisogna recarsi due o tre volte alla settimana per 4 o 5 ore. Quindi c'è un impegno notevole del paziente come impegno di tempo, trasporti e tempo sottratto alla vita familiare e sociale. Ma quanto è diffusa questa malattia renale cronica? La malattia renale cronica purtroppo è molto diffusa. Abbiamo degli studi abbastanza precisi anche in Italia che stimano che il 7-8% della popolazione ha un certo grado di malattia renale cronica. Invece attualmente abbiamo in dialisi cronica circa 50.000 pazienti in Italia. Ora per darvi l'idea anche del costo sociale di questa malattia tenete presente che i dializzati sono lo 0,02% della popolazione. Bene, questo 0,02% della popolazione consuma il 2% della spesa del sistema sanitario nazionale perché ogni paziente che è in dialisi purtroppo per le terapie necessarie ha bisogno di un budget di circa 50.000 euro anno. La cosa migliore quindi è cercare poi di fare o di non arrivare alla dialisi ovviamente oppure poi di ricorrere al trapianto e il trapianto è un'ottima soluzione e la migliore terapia possibile in questi casi per riabilità enormemente il paziente l'ho fatto una vita quasi normale e quindi in Italia fortunatamente si fanno abbastanza trapianti però vorrei spezzare una lancia a favore delle donazioni di organo che purtroppo nel sud Italia e anche in Puglia stentano a decollare. È ancora una battaglia culturale da fare. Ritorniamo a parlare di tutto ciò fra pochissimo perché restituiamo la linea alla Regia per una brevissima interruzione pubblicitaria. E ritorniamo in studio. Stiamo parlando dei reni, della malattia renale cronica in compagnia del dottor Filippo Aucella primario di nefrologia e dialisi in casa sollievo della sofferenza. Abbiamo spiegato un po' qual è la funzione del rene abbiamo raccontato tanto sulla malattia renale cronica siamo arrivati a quella che è la soluzione più temibile ovvero la dialisi però lei giustamente auspicava prima l'obiettivo per questo tipo di pazienti per la cura di questo tipo di malattia è non arrivare a quello step. Allora come si fa? Allora noi come detto la malattia necronica spesso è silenziosa non dà segni evidenti. Allora le strategie da mettere in campo per fare una diagnosi precoce è lo screening, cioè il controllo della funzione renale nei soggetti più a rischio. Chi sono i soggetti a rischio? Tutti i pazienti che hanno la pressione alta quindi gli ipertesi tutti i soggetti che hanno il diabete tutti i soggetti obesi quindi già queste tre grandi categorie hanno necessità di fare un controllo molto semplice della funzione renale basta fare una creatinina sul sangue un esame delle urine e se necessario un'ecografia renale quindi esami semplici, poco costosi facilmente accessibili ma con questi tre soli parametri il nefrologo è in grado di dire che funzione ha il rene che rischio abbiamo e poi di implementare le terapie che eventualmente sono necessarie. quindi anche se non siamo in presenza di sintomi particolari perché lo ricordiamo è appunto una malattia che può anche non manifestarsi con dei sintomi riconoscibili per le categorie a rischio ovviamente lo screening e la diagnosi precoce è fondamentale le categorie a rischio sono quindi gli ipertesi, gli obesi e i diabetici quindi è importante arrivare ad una diagnosi per tempo perché poi si evitano tutta una serie di passaggi insomma più invasivi sicuramente lei ha nominato tra i tipi di diagnosi anche l'ecografia renale allora vogliamo ascoltare il dottor Matteo Piemontese nefrologo di Casa Sollievo della Sofferenza che ci spiega proprio come funziona l'ecografia renale l'ecografia renale è un'indagine abbastanza semplice che sfrutta gli ultrasuoni che attraverso una sonda vengono inviati al paziente le sonde sono di diverso tipo a secondo del tipo di indagine in questo caso è una sonda convex e questi ultrasuoni vengono poi processati dal computer interno all'apparecchio e ci permettono di ricostruire le immagini degli organi interni e in particolare nel nostro caso dell'apparato urinario quindi noi riusciamo a vedere i reni parte delle vie urinarie, la vescica, la prostata naturalmente questa indagine si può estendere anche ad altri organi quindi l'addome, il fegato, la milza qualora la orta, i vasi dell'addome per completare la valutazione del paziente è un'indagine semplice usa ultrasuoni quindi non mezzo di contrasto né radiazioni quindi che potrebbero essere dannosi per il paziente facilmente ripetibile e anche con le moderne apparecchiature portate al letto del paziente nel nostro caso specifico in nefrologia ci permette innanzitutto di valutare per dire un paziente con un'insufficienza renale acuta noi possiamo vedere se dipende per dire da un'ostruzione urinaria quindi dilatazione delle vie urinarie a livello dei reni oppure della vescica, della prostata nel caso di pazienti con malattia renale cronica valutiamo le dimensioni dei reni, la loro struttura e quindi ci permette anche di seguire il paziente nel tempo è un'indagine abbastanza precisa per quanto riguarda le cisti renali che possono essere un reperto occasionale oppure far parte di una patologia renitaria i reni policistici per esempio che possono spiegare un'insufficienza renale da causa ignota nelle coliche renali riusciamo a vedere i calcoli renali qualora siano localizzati a livello del rene o della vescica qualora non si evidenzino calcoli ma una dilatazione delle vie urinarie poi il paziente viene avviato ad indagini di secondo livello Ecco, è un esame non invasivo, un esame semplice un esame assolutamente consigliabile, no? Sì, assolutamente se c'è qualche dubbio un'ecografia è un esame innocuo è facilmente ripetibile e ci dà molte informazioni come diceva il dottor Piemontese possiamo già sapere le dimensioni dei reni questo già ci dice ad esempio se siamo di fronte a un fatto acuto o cronico perché man mano che progredisce l'insufficienza renale il rene tende a rattrappirsi quindi diminuisce di dimensioni mentre se non ha grossi problemi mantiene le sue dimensioni abituali oltre a far diagnosticare problemi specifici come le cisti multiple, i calcoli e quant'altro Noi abbiamo parlato di categorie a rischio vero è che però ci sono degli stili di vita corretti delle buone pratiche che tutti al di là del fatto che siamo non siamo soggetti a rischio per questo tipo di malattia dobbiamo osservare per una corretta funzione del rene quali sono questi accorgimenti anche quotidiani che tutti possiamo e dobbiamo fare per aiutare i nostri reni? Sicuramente noi possiamo assumere dei corretti stili di vita che aiutano tutto l'organismo parliamo del rene ma probabilmente aiutano tanti altri organi allora prima di tutto controllare il peso corporeo quindi evitare il sovrappeso se non l'obesità e questo lo si fa sia a tavola con una corretta alimentazione e per corretta alimentazione intendiamo un'alimentazione soprattutto di tipo mediterraneo quindi evitare l'eccessivo consumo di proteine di origine animale soprattutto limitare le carni rosse e poi praticando l'esercizio fisico ormai siamo diventati tutti troppo sedentari quindi abbiamo bisogno di muoverci in maniera molto semplice un esercizio aerobico che consiste nel fare lunghe camminate passeggiate, andare in bicicletta andare per funghi nei boschi mantenersi attivi aiuta il rene anche a stare meglio e poi ovviamente l'astenzione dal fumo che non la ripetiamo più perché la devono aver scontata ormai sappiamo che il fumo è tra i fattori di rischio di tutte quasi tutte le patologie però è sempre importante ricordarlo l'ultima cosa che vorrei aggiungere è che il rene funziona se siamo ben idratati quindi attenzione soprattutto ai soggetti anziani che tendono a bere meno è importante bere qualunque acqua ma è importante bere e mantenersi idratati è importante bere quanto? c'è diciamo una dose giornaliera consigliata? non esiste una dose giornaliera consigliata però sicuramente non dobbiamo mai scendere sotto il litro litro e mezzo e il sale a tavola? il sale va limitato tranne casi particolari ma in quel caso sarà il medico che ci dirà che per noi non va bene una dieta con poco sale noi consumiamo troppo sale a tavola e soprattutto dovremmo cercare di evitare i cibi già salati in presidenza quindi purtroppo gli inzaccati e i cibi già preparati contengono già di per sé quantità eccessive di sale preferire i cibi freschi sicuramente ci consente di salarli di meno e quindi di assumere poco sale con la dieta noi sappiamo che la medicina fa e ha fatto anche in questo campo dei passi in avanti quanto è importante la ricerca? quali nuove terapie ci sono? nel cambio del nefrologico abbiamo avuto alcune grosse terapie nei decenni passati abbiamo avuto una nuova classe di farmaci cosiddetti acinibitori che ci consentono di bloccare la progressione del danno renale e quindi ci hanno dato una grossa mano per rallentare l'evoluzione nei casi di malattia necronica già conclamata adesso si stanno affacciando una nuova classe di farmaci la sigla è SGLT2 ma insomma è un po' complicata che sono farmaci nati per il diabete ma gli ultimi studi stanno dimostrando che rallentano la progressione della malattia necronica anche nei soggetti che non hanno diabete e quindi ci aspettiamo che nei prossimi due o tre anni probabilmente avremo a disposizione un'arma in più per bloccare la progressione della malattia renale e quindi curare meglio la malattia necronica questo ci fa molto piacere soprattutto ci conferma ancora una volta davvero l'importanza della ricerca del sostegno alla ricerca noi ringraziamo il dottor Aucella per essere stato in nostra compagnia per averci raccontato e spiegato qualcosa in più su questo mondo dei reni e cosa succede appunto quando poi le cose non vanno come dovrebbero grazie ancora al dottor Aucella come sempre grazie a tutti voi per averci seguito anche questo pomeriggio Spazio Salute ritorna ancora la prossima settimana sempre in diretta mercoledì alle 16 e 15 noi restituiamo la linea alla regia e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV Grazie a tutti